La Fenice del sovrintendente Cristiano Chiarot è un fiume in piena di idee nuove, con un'attenzione particolare alla vita della città. In questo senso si inserisce l'invito ai vincitori della regata storica di assistere alla prima della Carmen di Bizet. È in assoluto la prima volta che i dodici campioni della storica, ovvero Rudy e Igor Vignotto con gli altri vincitori, vengono ospitati in teatro in maniera ufficiale. E ispirata all'intrepida eroina uscita dalla penna di Prosper Merimè, è l'iniziativa del teatro La Fenice contro il femminicidio. Si chiama Effetto Carmen, La Fenice per la libertà di ogni donna contro tutte le violenze. Si tratta di un reading che si svolgerà venerdì 20 settembre dalle 15.30 in poi all'esterno del teatro. Donne provenienti dagli ambiti più diversi potranno dare la loro testimonianza o leggere brani scritti da autrici di ogni epoca. Ci saranno persone normali, persone conosciute, persone meno conosciute a leggere testi di donne che si rivolgono a donne, ma soprattutto si rivolgono a tutti. Basta con la violenza alle donne. Questo lo dice a gran voce il teatro La Fenice.